ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi parlerò dell'incisore laser ortur laser master 3 che ha 10 watt di potenza è bellissimo da vedere e funziona benissimo ma è ortur c'è poco da dire ho già recensito l'incisore laser ortur laser master 2 che ha avuto un enorme successo come hanno avuto un enorme successo anche l'offero 1 e l'offero 2 sempre della ortur ragazzi ortur e leader insieme a tanti altri marchi nella realizzazione degli incisori laser più potenti e più precisi che esistano questo mi ha dato la possibilità di incidere una fotografia con una risoluzione elevatissima ovviamente taglia benissimo taglia sia il legno di grande spessore che il cartoncino quindi molto modulabile incide il metallo con una sola passata con una risoluzione elevatissima con un nero davvero molto deciso quindi non rimane che guardarlo spiegarvi tutte le sue caratteristiche e vedere quello che sono riuscito ad ottenere il prezzo vi lascio il link giù nel primo commento nella descrizione perché spero di ottenere delle buone offerte degli interessanti codici di sconto però diciamo che uscilla solitamente fra 7 800 euro ma li vale tutti perché un incisore laser davvero fatto molto bene adesso mettiamolo sul bancone e osserviamolo e allora ecco quindi l'incisore laser sul bancone queste sono tutte le certificazioni che ci assicurano che i prodotti della ortur sono tutti conformi e quindi tutti di buona qualità questo è l'incisore laser bellissimo da vedere e al centro abbiamo alcuni pezzi che ho inciso e altri che ho tagliato beh prima di farvi vedere però i lavori che ho realizzato voglio parlarvi un attimo del suo montaggio ragazzi è davvero velocissimo perché semplicemente nella parte bassa di questa struttura ci sono delle viti una per ogni lato quindi con quattro viti si riesce a montare in pochissimi minuti come vedete l'aspetto è davvero bellissimo non ci sono cinghie in vista e gli unici cavi necessari per il funzionamento sono comunque poco invadenti questi vanno a fine direttamente sul modulo laser quindi è impossibile nasconderli ma comunque hanno un sistema che li ritiene ben fissi sulla struttura quindi non vanno nemmeno sull'area di incisione non inserirò il video del montaggio dell'unboxing prima di tutto perché io ho ricevuto una scatola differente da quella che adesso in commercio l'ho ricevuta molti mesi fa appena prodotto quindi adesso hanno cambiato un po tutto e anche all'interno della confezione ho trovato una configurazione leggermente differente ma vi lascerò in descrizione il link per poter vedere il montaggio realizzato direttamente dalla ortur e allora vi faccio vedere innanzitutto direttamente quello che sono riuscito ad ottenere dopodiché vi descriverò la macchina in tutti i suoi dettagli allora partiamo dalla cosa più semplice relativamente semplice perché effettivamente un modulo laser per riuscire ad ottenere un taglio come questo sul cartoncino deve essere fatto bene è un cartoncino molto sottile comunque rigido ho inciso questo simbolo ad una velocità abbastanza elevata stiamo parlando di mille millimetri al minuto con l'ottanta per cento di potenza inciso senza bruciature vi iniziare ovviamente anche il video dove potete vedere che ha realizzato questo taglio in un batter d'occhio riuscendo a dare una pulizia di taglio e una qualità generale davvero elevata il pezzo si è staccato subito e come potete vedere dalle riprese realizzate durante il taglio c'è voluto davvero pochissimo tempo si è staccato semplicemente toccandolo e non sono presenti segni di bruciatura quindi un ottimo lavoro sul cartoncino lavora benissimo e permette di realizzare tantissimi lavori perché il cartoncino si presta realizzazione di tantissime cose per quanto riguarda feste ma anche a livello professionale si possono realizzare diversi oggetti poi ragazzi ho inciso sull'acciaio questo è un coltellino della lidl guardate come inciso questo simbolo del pic incidendolo anche in profondità e per realizzare questa incisione sono stati necessari 600 mm al minuto all 80 per cento di potenza guardate come è venuto scuro inciso davvero benissimo non ho fatto altre prove perché già con questo mi sono reso conto della qualità di incisione e di come riempie benissimo anche sull'acciaio il nero è venuto molto corposo quindi molto soddisfacente realizzato in pochissimo tempo con un ottimo risultato ovviamente poi ho fatto la prova anche sul legno sia legno grosso che legno più sottile sul legno da 10 mm sono stati necessari tre passate ad essere sincero già con la seconda passata era riuscito a realizzare il taglio però il pezzo si è staccato in automatico al terzo passaggio ma dalle riprese vedete che già dal secondo passaggio il laser aveva attraversato il pezzo e quindi aveva realizzato il taglio senza problemi sarebbe bastato semplicemente toccarlo per separarlo quindi stacchiamolo mi è caduto però guardate all'interno non ci sono bruciature è venuto tagliato benissimo quindi un ottimo risultato sui 10 mm nessun problema con tre passaggi utilizzando la era assist questo è il pezzo staccato come potete vedere un color nocciola quindi niente bruciature il dito rimane pulitissimo ottimo risultato sui 10 mm ovviamente non poteva mancare la prova anche su un pezzo più grosso quindi 16 mm e mezzo allora per tagliare questo in realtà ci sono voluti una decina di passaggi non lo ricordo bene ma dal video comunque lo vedrete anche questo realizzato con il 90 per cento di potenza con una velocità di 200 mm al minuto lo stesso per quanto riguarda i 10 mm quindi e questa è la classica tabella questa volta ragazzi non fateci caso mancano alcuni pezzi perché mi sono reso conto di avere commesso degli errori quindi lo interrotta ma comunque quello che ci interessa è vedere come riesce a lavorare questa tabella infatti serve a rendersi conto di quali siano i parametri corretti per poter utilizzare al meglio l'incisore laser in questo caso basta premerlo leggermente e si stacca anche con due passaggi stiamo parlando del 60 per cento ad una velocità elevata quindi 450 millimetri al minuto non sono assolutamente pochi e quindi se riesce a tagliare questa velocità così elevata con due passaggi al 60 per cento ovviamente ci riesce anche con le potenze maggiori ragazzi adesso guardate questa foto secondo me è quella che è riuscita meglio fra tutte le foto che ho inciso fino ad ora ha rispettato perfettamente tutta la scala di grigi e se guardate il drone in questo caso è realmente inciso come se si trattasse di una fotografia stampata su carta ragazzi tutti i dettagli anche per quanto riguarda il mio volto quindi il chiaro scuro della barba gli occhiali sono stati incisi in modo nettissimo e si distinguono benissimo le aste anche fra i capelli poi ho interrotto la stampa sulla parte bassa dopo essermi accorto di questo errore anche le scritte sono venute molto bene molto definite e questa sul centro invece sono i tagli realizzati con una potenza del cento per cento a 450 mm al minuto anche in questo caso ha tagliato e lo ha fatto in modo molto pulito guardate nella parte posteriore non ci sono segni di bruciatura mentre nella parte frontale sono presenti dei segni di bruciatura perché non avevo inserito l'air assist e quindi si è bruciacchiato un po tutto lo stesso per quanto riguarda il logo molto definito anche in questo caso in base alle impostazioni possiamo ottenere delle tonalità più o meno scure ma visto quindi quello che sono riuscito a ottenere utilizzando il programma dal computer quindi in questo caso light barn guardiamo quello che sono riuscito ad ottenere con il wifi e ottenuto questa mia fotografia proviene da un selfie quindi comunque basta risoluzione perché con la fotogramma frontale e voglio farvi vedere come l'ho utilizzato appunto tramite l'applicazione e allora l'applicazione è molto semplice da utilizzare basta collegarla all'incisore tramite il wifi dopodiché scegliere un file nel mio caso appunto il selfie tramite sempre l'applicazione possiamo anche spostare i vari assi possiamo decidere tutti i parametri possiamo anche decidere il tipo di materiale se si tratta di legno oppure di altro di conseguenza possiamo poi spostare il file all'interno di una griglia che rispetta l'area di incisione del nostro incisore dopodiché possiamo dare il via e sempre tramite wifi e tramite applicazione possiamo gestire il tutto sempre durante l'incisione ottenuta tramite l'applicazione possiamo comunque intervenire comandare l'incisore tramite computer se lo stesso ovviamente è collegato quindi molto comodo utilizzare anche in quelle occasioni nelle quali non abbiamo il computer a portata di mano e vogliamo utilizzare semplicemente il nostro telefonino ora viste queste prestazioni diamo un'occhiata all'incisore guardiamo come è fatto partendo dalla parte frontale il primo elemento che troviamo il fungo di emergenza che serve ad interrompere le incisioni quindi bloccare completamente la macchina nel caso in cui qualcosa stia andando storto dopodiché troviamo questa chiave che è un altro sistema di sicurezza perché ci permette una volta rimossa di evitare che qualcuno non autorizzato accenda la macchina questo è il tasto di accensione e nella parte sinistra troviamo l'antenna wifi e i collegamenti per i cablaggi da questa parte invece troviamo il tastino reset l'ingresso per la scheda micro sd e altre connessioni per eventuali altri accessori queste che invece sembrano delle semplici viti presente sia da questa parte da quest'altra parte che come vedete anche sull'asse x sono in realtà delle viti che consentono di avere un vero e proprio end stop quindi un fine corsa e obiettivamente funziona benissimo questo invece è un interruttore che ci permette di selezionare la modalità normale oppure di utilizzare quell'accessorio che ci permette di incidere sulle superfici cilindriche ma adesso guardiamo il modulo laser come vedete sulla parte frontale è presente questa levetta che ci permette di mettere a fuoco semplicemente abbassandola e facendo in modo che la stessa vado a toccare sulle superfici da incidere per poter regolare l'altezza è necessario svitare questa vita quindi si può alzare ed abbassare finché questa parte non va a toccare la superficie da incidere quella sarà la distanza corretta per poter mettere a fuoco nel modo giusto sulla parte più alta abbiamo due ingressi uno è l'ingresso per questo spinotto che ci permette di alimentare il nostro modulo laser e questo è invece il tubicino in silicone che ci permette di utilizzare il sistema air assist ma guardiamolo in modo molto più dettagliato è dotato sulla parte bassa di questa protezione in plastica che si può rimuovere e inserire semplicemente ad incastro più questo sistema che ci permette di convogliare l'aria direttamente nel punto di incisione va semplicemente avvitato e svitato aria che ci permette di avere dei tagli più puliti senza segni di bruciatura che abbiamo visto poco fa come potete vedere anche da questa etichetta questo modulo laser quindi a 10 watt ma in realtà all'interno sono presenti due moduli da 5 watt che tramite un sistema di specchi convogliano lo stesso raggio laser sommandolo e quindi proiettando in totale un massimo di 10 watt nella parte sinistra quindi vediamo l'antenna l'ingresso usb si tratta di un cavo usb maschio maschio e l'ingresso per l'alimentazione elettrica e questo è l'alimentatore che troviamo in dotazione ovviamente il tutto marchiato c'è quindi tutto certificato è tutto perfettamente a norma oltre ad avere questi sistemi di sicurezza quindi il tasto di emergenza e la chiave per impedire accensioni non autorizzate è dotato anche di sistemi di sicurezza automatici che fanno in modo che l'incisore laser interrompa il proprio lavoro nel caso in cui venga sollevato spostato dal punto in cui si trova nel caso in cui il modulo laser dovesse rimanere troppo tempo fermo nello stesso punto nel caso di disconnessione dal computer eccetera perde però il sensore di fiamma che nel modello precedente era messo nella parte interna in basso e allora ragazzi quindi tiriamo le somme cosa dire di questo incisore laser come vedete funziona benissimo l'incisione sul metallo è riuscita benissimo questo è acciaio ed è riuscito ad inciderlo con questo nero davvero corposo lo stesso per quanto riguarda il taglio sui 16 mm e mezzo pezzo di bancale tagliato benissimo non mi resta che invitarvi ad andare a guardare il link che vi lascerò giù nel primo commento nella descrizione per vedere se riesco a ottenere dei codici di sconto vi invito ad iscrivervi anche il mio canale mettere vi piace a questo video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto